Condannato a 7 anni e 2 mesi di reclusione, l'uomo ritenuto responsabile di violenza sessuale nei confronti di una donna. I fatti risalgono all'agosto 2021, quando i due si sarebbero conosciuti in un bar del Valdarno a Aretino. Dopo l'incontro, il trentenne, di origini senegalesi, avrebbe seguito la donna fino alla sua abitazione e poi l'avrebbe stuprata. Le indagini furono svolte dai carabinieri della stazione del nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Giovanni Valdarno. I militari, nel volgere di meno 24 ore dalla denuncia del fatto, riuscirono ad identificare l'uomo. La sentenza di primo grado è stata pronunciata ieri dal collegio presieduto dal giudice Filippo Ruggero, una stangata per il trentenne rappresentato in aula dall'avvocato Raffaello Falagiani.